Io sono Franco, ho 23 anni e abito a Treviso. Diciamo verso i 19-20 anni ho visto come nelle tempie c'era formata una leggera tempiatura e siccome anche mio padre è attualmente senza capelli e li ha persi fin da giovane insomma volevo prevenire ciò e ho contattato l'istituto Elbertico Sanders. L'ho visto in tv su una pubblicità e mi ha convinto il fatto che fosse una società affermata e su cui fare affidamento e ho fatto la visita per quella gratuita qui in sede a Treviso. Dopo circa 4-5 mesi ho visto come la tempiatura stava pian piano diventando sempre più piccola come i miei capelli, quelli centrali, fossero più forti ovvero passandoci con la mano sentivo che ne cadevano molti meno. Il mio trattamento l'ho tenuto nascosto quindi una situazione particolare l'ho vissuta solo con me stesso. quando allo specchio capitava spesso magari che mi vedessi tanto stempiato e con la consapevolezza che con il passare del tempo sarei solo peggiorato. Avevo sempre un po' di timore ma più che per il momento stesso, per il futuro anche, mentre ora so che per i prossimi anni insomma posso stare tranquillo. dopo qualche mese qui in studio dalla dottoressa facendo una foto dall'alto mi sono visto migliorato e ciò mi ha dato molta molta più sicurezza. Allora consiglierei assolutamente e per il fatto di essere seguiti sempre, qualsiasi tipo di problema, c'è la dottoressa che è molto disponibile anche via mail, è molto comodo con molte sedi e soprattutto le visite sono molto vicine e ti fa sentire molto molto seguito e questo ti dà ancora più sicurezza che tutto questo percorso poi vi porti un vero beneficio. Come su ogni cosa prevenire è molto meglio di colare e io mi sento di aver fatto la scelta giusta. Mi sono trovato molto più sereno con una semplice scelta durata 12 mesi circa e per i prossimi anni so che stavano la domenica.